Grazie Presidente, innanzitutto ovviamente preannuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle su questa delibera e volevo ribadire la mia solidarietà all'assessore Lemmetti che effettivamente su alcune questioni ha lavorato, se non da solo, ovviamente con un supporto limitato, anche perché effettivamente la materia è complessa sia dal punto di vista legislativo e contabile e di fatto condivido il quanto ha affermato sulla gestione diretta solo di alcune partecipate e effettivamente la responsabilità ridotta e non diretta sul funzionamento, una cosa è il coordinamento strategico, una cosa è il funzionamento e molti rilievi che abbiamo fatto sulla situazione, ovviamente personalmente in modo assolutamente costruttivo mi sembra e proprio valorizzando quel lavoro e la necessità di portare a termine le cose iniziate che in questo momento ancora non hanno fornito i risultati attesi. Per cui in realtà ribadisco in questa breve dichiarazione di voto che lo sforzo a chiudere su determinate questioni deve dare concretezza al lavoro che abbiamo fatto in questi anni e anche in mezzo a molte difficoltà e che tutti gli attori del sistema, compresi anche poi gli organi che sono a capo delle partecipate, devono fornire come sforzo per chiudere e centrare gli obiettivi che questa amministrazione si è prefissato. Quindi ribadisco il voto favorevole e anche il desiderio in prospettiva di continuare a lavorare assiduamente sugli obiettivi che ci siamo prefissati sulle partecipate. Grazie.